E' entrato in contromano in Viale Trieste a Pesaro, si è diretto verso la pista ciclabile e da lì è iniziata la folle corsa a bordo del tir senza rimorchio. Era ubriaco il cinquantenne veronese che ieri sera intorno alle 23 è salito su un Mercedes Actros di 16 quintali e mezzo e si è diretto verso il lungomare pesarese. Una volta entrato da qui sulla ciclabile, l'uomo ha percorso 5 chilometri prima di arrivare a Fosso Seiore, dove ha svoltato a destra imboccando la strada per il camping Norina, a pochi metri dal sottopasso. Bloccato dalle volanti della questura di Pesaro e del commissariato di Fano, il cinquantenne senza precedenti penali è sceso barcollante e annebbiato. Alla polizia ha raccontato di non sapere dove si trovasse, poi durante i controlli è risultato avere un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito. Secondo le prime testimonianze, alcuni ciclisti che si sono trovati davanti il tir sulla ciclabile sono riusciti a salvarsi gettandosi sulla sabbia e nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. Diversi anche i turisti del camping Marinella che hanno assistito alla scena, così come i custodi delle due strutture. Il camion, ancora da immatricolare con una targa di prova, doveva essere consegnato ad una ditta in Abruzzo. Ingenti i danni provocati al veicolo, poi posto sotto sequestro perché il veronese ha travolto pali, segnaletica, muri di cinta e fioriere. Durante la corsa anche è perso i pezzi della carrozzeria. Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e multato per la guida sulla ciclabile. La patente invece gli è stata ritirata.